19 novembre 2001 assassinata maria grazia cutuli inviata del quotidiano corriere della sera nata a catania nel 1962 dopo la laurea in filosofia si specializza in peacekeeping con l'alto commissariato on per i diritti umani il giorno prima della sua morte il quotidiano di via solferino aveva pubblicato un suo reportaggio dall'afghanistan su un deposito di gas nervino abbandonato dai terroristi di al-qaeda con il collega spagnolo julio fuentes il reporter reuters harry burton e l'operatore azizullah aidari afghano vengono uccisi a raffiche di kalashnikov in un agguato dei taliban lungo la strada che collega jalalabad a kabul un omicidio politico come stabilito tre anni dopo nella sentenza della corte di cassazione per dimostrare chi controllava il territorio nell'ottobre 2007 è stata eseguita a kabul la condanna a morte di uno degli assassini nel nome di maria grazia cutuli continuano a fiorire tante iniziative legate al giornalismo alla solidarietà e alla pace